Torna a Terra Nuova Bracciolini il festival del documentario terza edizione dedicato agli sguardi surreale quest'anno la manifestazione che si tiene dal 16 al 21 aprile all'auditorium Le Fornaci con eventi serali a partire dalle 21 e 15 vede la partecipazione di nomi come Gianni Pacinotti, Narte Gipi, Cecilia Mangini e Bobo Rondelli. È un festival composito, intelligente, calidoscofico e decisamente alternativo. La presenza dei nomi dei filmmaker ma comunque anche di critici teatrali, persone di capacità nell'organizzare, nel proporre e nel poi produrre un documentario davvero strabiliante. Da noi vedrete documentari che non hanno circuito, nel senso che non sono distribuiti nelle sale cinematografiche. Nel corso delle varie proiezioni non mancheranno momenti di riflessione ed approfondimenti. Il nostro festival non è soltanto di documentario, all'interno saranno promossi dibattiti, discussioni, laboratori, un incontro addirittura con la scuola. C'è un pulmino che gira nel territorio, quindi a Terra Nuova in modo particolare, recupererà gli interventi della gente che assisterà e soprattutto degli autori. Allora, prima proiezione martedì 16 aprile con Smettere di fumare fumando di Gianni Gipi Pacinotti con la presenza dell'autore.